Ciao sono Nicola di D-Sport e vi presento in questo tutorial come installare il nuovo appoggia freccia nell'arco olimpico, il bottone di pressione e fare un punto d'incoco. Tutorial semplice per chi inizia a tirare, seguitemi passo passo e vedremo come partire fin dall'inizio nella nuova installazione del appoggia freccia. Abbiamo scelto per la nostra prova un arco ILF, attacco classico, ma potete anche eseguire questa prova in un arco scuola per esempio, non cambia nulla. Abbiamo preso un REST classico dell'Avalon TEC-1 magnetico regolabile, trovate il link nel nostro sito eventualmente se siete interessati, ma potete utilizzare anche qualsiasi tipo di REST, come per esempio un REST regolabile sempre in altezza, oppure un REST fisso magnetico. Consiglio magnetico perché con l'utilizzo del bottone si ha la copiata migliore. Partiamo passo passo quindi con il nuovo REST Avalon. Per prima cosa dobbiamo avere la base dell'arco ben pulita, quindi se avete avuto un REST già precedentemente, vi consiglio di andare a pulire la base con un po' di alcol, un po' di scotex, si pulisce, si lascia sugare l'alcol e siamo pronti per l'installazione del nuovo REST. Nella scatolina del REST solitamente trovate anche la chiave che serve appunto per poterlo regolare. Quindi in questo caso abbiamo anche un adesivo di scorta, qualora sbagliassimo ad incollarlo, e la sua chiave. Un suggerimento, per l'installazione del nuovo REST io preferisco sempre avere il bottone con me e vi spiegherò dunque il perché. Quindi apriamo il bottone, che è un classico bottone magnetico, con dentro tutti i suoi componenti, chiavi comprese, e la prima cosa che faccio lo vado ad avvitare nell'arco, dove sul primo foro che vedete. Eccolo qua, perfetto. Faccio sì di avvitarlo per il motivo seguente, ovvero per la centratura del foro. Mi spiego meglio. Se abbiamo per esempio un Avalon REST, il foro sarà perfettamente, diciamo, centrato rispetto al foro che vedete qui. Quindi sarà molto facile come installazione. Ma se avete un REST che vi lascia la possibilità di muoverlo avanti, indietro o in verticale, vedete questo foro più grande rispetto a quest'altro, sempre meglio avere con sé il bottone per la centratura. Dopodiché, se avete una squadretta, noi lo consigliamo già di posizionarla per poter allineare in questo senso il vostro REST. Quindi andiamo a vedere esattamente come funziona e cosa serve fare per fare un buon lavoro. Allora, spostiamo in questo modo la videocamera. Vi potete vedere appunto con più qualità e seguitemi passo passo. Quindi l'installazione del REST la faccio con il bottone al di fuori. Vado, precedentemente chiaramente ho tolto la pellicola dietro del REST, vado a posizionarlo cercando di non fare un angolo sbagliato, quindi di guardare la squadretta e di posizionarla in questo modo. Seguo esattamente il centro del bottone. Prima di andare a premerlo, ci do un'occhiata, controllo l'allineamento e successivamente, se sono contento, vado a premere fortemente per fissarlo. Facendo questo ho la possibilità, eventualmente, se non dovessi avere un ottimo angolamento, un'ottima inclinazione, posso staccarlo e riposizionarlo. Ma in questo caso sono contento, perciò ho premuto sufficientemente. Da notare una cosa che, prima che il REST abbia una vera tenuta, può passare anche un'ora. Quindi lasciamolo lavorare prima di tirare. Successivamente andiamo a prendere come riferimento la lastina che vedete. La lastina che vedete è importante averla, diciamo, regolabile, perché potrebbe essere che il vostro REST sia troppo alto o troppo basso. Per esempio, se avete un REST come questi, che sono quelli classici, come vi ho detto prima, eventualmente potreste avere la stanghettina che tocca il tip oppure eventualmente troppo bassa. In questo caso potete regolarla, semplicemente con la chiavetta in dotazione, potete avere la possibilità di regolarla sia in lateralità che in altezza. Chiaramente un REST troppo alto va a toccare, interferire con il bottone, un REST troppo basso dà problemi alla centratura della freccia. Noi consigliamo sempre di metterlo il più vicino possibile, per frecce sottili di sottile diametro, al pistoncino. Ora prendiamo, per esempio, una freccia campione, eccola qui, questa qui è una freccia classica di sottile diametro, e potete vedere che la centratura è corretta. Nel caso possiamo intervenire dopo nella regolazione della lateralità, perché prima di tutto devo fare la centratura dell'arco. Pertanto la prima cosa che mi assicuro di aver installato bene il REST, che la gambettina sia più vicino possibile al bottone per frecce di sottile diametro, intendo sottile diametro 4 mm e mezzo, 5-5 mm e mezzo massimo, e poi procedo con il punto d'incocco. Per il punto d'incocco abbiamo bisogno della classica squadretta, che vedete qui, meglio se è con i riferimenti in pollici, e quindi la posiziono appoggiandola nella stanghettina, eccola qui, quindi che sia a contatto e che sia in posizione appunto nella corda. posizioniamo quindi la squadretta in questo modo, e ci siamo pronti per il filo, per il punto d'incocco. Allora, uno spezzone di filo di solito lo tagliamo di 30-40 cm per andare meglio a fare i nodi. Ne prendiamo due, quindi siamo pronti, e intanto installo il primo, il superiore, con un nodo, un classico nodo, vado a posizionarlo, eccolo qui, nella parte dove c'è scritto un ottavo di pollice. Perfetto. Facendo questo, a un ottavo di pollice, abbiamo il classico punto d'incocco, che può essere utile per tutti quelli che iniziano a tirare. Quindi una messa a punto standard, che può essere utilizzata in quasi tutti gli archi, classici, scuola, olimpici e quant'altro. Quindi adesso andiamo a fare il punto d'incocco corretto, cioè un ottavo di pollice, faccio un altro nodo a salire, dietro a quello che ho fatto. Quindi un altro nodo dietro, e lo posiziono proprio sopra l'altra parte del filo. Stessa cosa, un altro nodo, posiziono sopra. Stessa cosa dietro, un altro nodo, e lo posiziono sopra. Vado avanti così, fino a fare 4-5 nodi, e quindi una volta fatto 4-5 nodi, e ho raggiunto un punto d'incocco bello stabile, di 4-5-6 mm massimo, posso andare a tagliare il filo in eccesso. Ecco qui. L'ultimo. Cerco di tenderlo bene, e poi taglio il punto d'incocco in eccesso di circa un centimetro. Ecco qua. Un classico accendino. Regoliamo la fiamma dell'accendino, che sia non troppo alta. Adesso qui siamo al minimo, quindi utilizzeremo questo al minimo, se avete la possibilità ancora un po' meno. Comunque, l'importante è quello di non andare a interferire con la fiamma alta nella corda, altrimenti qui si potrebbe creare un problema, perché proprio si bruciano i fili. Quindi facciamo molta attenzione. Abbiamo il punto d'incocco, l'abbiamo fermato, andiamo a bruciare la parte cedente, soffiando prima che arrivi nel serving, cioè la parte nera che vedete. Quindi partiamo. Eccolo qui. E con il pollice andiamo a premere. Stessa cosa dietro. Soffiamo. E andiamo a premere. Facendo questo, ho utilizzato un filo bianco, perché voi possiate vedere bene a contrasto con il nero, cosa succede, e anche le palline allo stesso modo. Quindi andiamo a posizionare la nostra freccia, con la cocca che abbiamo scelto nella nostra freccia, in questo modo. Andiamo a posizionare. Adesso vedrete che la freccia è ovviamente morbida. Quindi prendiamo il punto d'incocco sotto, lo andiamo a posizionare sotto la cocca, cercando di lasciare un minimo gap, circa un millimetro, due millimetri al massimo. Togliamo la freccia e andiamo a sigillare il nostro punto d'incocco, facendo attenzione a non muoverlo. Quindi, come prima, rispetto a prima, però andiamo verso il basso. Quindi un nodo in giù, un altro nodo in giù, nella parte frontale e posteriore della corda. Se avete necessità di un supporto, potete trovare anche di supporti per questa manutenzione, altrimenti potete farvi aiutare da qualcuno che vi dà una mano tenendo l'arco, perché avete bisogno che siate più stabili possibili. Ecco qui. Quindi, fatto questo, abbiamo il punto d'incocco e andiamo a tagliare l'eccedenza, lasciando fuori poco filo, andiamo a tenderlo per bene, e poi di nuovo. Uno e due. Perfetto. Facendo questo, ho raggiunto il punto d'incocco classico per l'arco olimpico, per l'arco scuola, per tutti gli archi che possono essere, diciamo così, utilizzati in questo, eccolo qui, con questo sistema. Adesso andiamo a vedere come si regola il bottone. Quindi, partiamo sempre con questa, con questa panoramica, cioè, in generale abbiamo il, il rest, abbiamo la freccia, eccola qui, abbiamo il bottone, abbiamo il punto d'incocco. Inseriamo la freccia, la posizioniamo, e andiamo a verificare, a traguardare, questo aspetto. Ovvero, in pratica, abbiamo, la corda dell'arco, eccola qui, perfettamente al centro, la andiamo a traguardare, con il foro del riser. Eccolo qui, questo forellino che vedete. Quindi, traguardandola così, ci muoviamo verso il basso, e andiamo a fare, la stessa cosa sotto. Ecco qua. Quindi, con l'occhio nudo, traguardate il tutto, e dovreste vedere, che la vostra freccia, ha, una, leggera, orientamento, verso sinistra. Quindi, non è perfettamente al centro, ma è, verso sinistra. Quindi, cosa posso fare? Posso agire in questo modo. Spostiamo l'arco, e lo vediamo assieme. Ecco qui. Il bottone ha la possibilità, di essere spostato a destra e a sinistra, e essere regolato tramite il grano, che vedete qui. Quindi, in pratica abbiamo, il grano, di fissaggio della ghiera, che possiamo appunto, spostare, per la regolazione. Quindi, andiamo a verificare, con la freccia, quanto, a sinistra siamo, e andiamo quindi, a posizionare, guardiamo, sempre al foro, guardiamo il tutto, siamo un po' a destra, rispetto, a quello che dovremmo essere, quindi, prendo, e lo avvito ancora. Ecco qua. La cosa semplice, è appunto, quella di traguardare, i due fori, quello sopra, e quello sotto, e andare a vedere, quanto abbiamo, la freccia, con la punta a sinistra. Non deve essere troppo, deve essere solo, leggermente a sinistra. Ok? Un effetto del genere. Non troppo. Quindi, una volta raggiunto, il livello, andiamo, a bloccare, il, 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 il grano, lo andiamo a fissare, ecco qui, e andiamo ad avvitarlo, completamente in fondo. Ora, dobbiamo portarci, in questo, in questo aspetto qui, quindi, la regolazione della stanghettina, e abbiamo, la possibilità di muoverlo, con la chiavetta, in questo modo. Ovvero, siccome la stanghettina, del rest, va, leggermente, interferirlo, potete vedere, nell'asta stessa, preferisco, in questo caso, prendere e andare a dargli, un, un attimo, di, apertura in più. Quindi, prendiamo, la stanghettina, andiamo a posizionare, gli diamo un attimo, di apertura in più. Per tutti quelli, invece, che hanno, un, classico, rest, magnetico, non regolabile, non preoccupatevi, l'importante, è che la stanghettina, sia leggermente, più aperta, rispetto al necessario. Successivamente, vado a controllare, di nuovo, l'aspetto, della centratura, e, cercando sempre, di paragonare, la corda, ai fori, e andando, leggermente, a vedere, se la freccia, risulta, un pelo, verso sinistra. Perfetto. Quindi, abbiamo fatto, il punto di incocco, abbiamo messo, il bottone, al posto giusto, abbiamo messo, la freccia, al posto giusto, siamo pronti, per partire, con il primo, tiro con l'arco, con il nuovo rest, nuovo bottone, e nuovo punto di incocco. Grazie a tutti, per essere stati qui, in questo video, in questo tutorial, se avete delle domande, fatecele, scrivete sotto al video, e siamo felici, di rispondervi. Se vi è piaciuto, mettete un bel pollice in alto, e se volete iscrivervi, faremo altri video così, richiedeteci, senza problemi, di cosa avete bisogno, e noi lo faremo. Un abbraccio a tutti, e buon tiro con l'arco.